Salvatore Pugliese, amministratore della Meta Legno Italia, innanzitutto ha voluto legare con piacere l'immagine della sua azienda al campo basso calcio. Sì, dietro sollecitazioni degli amici Capone, papà e figlio, con quali c'è un rapporto storico di amicizia e di rapporti lavoro, abbiamo riduto l'opportunio di dare un piccolo contributo all'ora, alla famiglia Capone, a tutti e al campo basso. Tra l'altro la sua famiglia è abituata ai palcoscenici calcistici, suo fratello è stato presidente dell'Avellino qualche anno fa. Sì, noi siamo da anni che siamo nel calcio, prima di essere proprietario dell'Avellino, i miei due fratelli, siamo stati sponsor del Torino, con l'AIC che si viene una decina di anni fa, del Torino Calcio, poi nacque questa idea di entrare nell'Avellino Calcio, che è stato un periodo sicuramente entusiasmante per i successi che abbiamo ricevuto. E quindi in ogni caso la nostra famiglia nel DNA è il calcio, perché a caso, ripeto, ci divertiamo ancora a giocare. È un progetto a media lunga scadenza questo matrimonio con il campo basso? No, questo non so rispondere. I signori Capone, ripeto, quali siamo legati al rapporto di amicizia e di lavoro, mi stanno sollecitando un'idea, un pensadino, ce lo stiamo facendo, anche un'avventuale ingresso in società. Io ribadisco, ma come mia ipotesi, questa è la mia ipotesi, che continuo anche allora, secondo me è il caso di trovare, prima che la famiglia pugliese o altri avellinesi, di sollecitare l'imprenditoria o un campo bassano, perché è proprio un fatto anche logistico, non solo economico, ma logistico, perché noi impegnati anche in attività di lavoro, quindi comunque non stiamo parlando di squadre che fanno la serie A, ma squadre fino alla serie B, il Presidente o un rispondante deve essere presente sul posto, sia per le fatte amministrative, sia per il controllo anche all'aspetto tecnico. Quindi io, ripeto, ho consigliato e consiglio alla famiglia Capone di sollecitare, prima che noi, al quale abbiamo dato disponibilità sicuramente, quindi non chiudiamo le porte, a trovare, se possibile, uno o due soci anche di campo basso, che sarebbe la cosa migliore per loro e per il campo basso. Allora sentiamo anche la voce del campo basso calcio su questo nuovo matrimonio, su questo sodalizio con la famiglia pugliese, però manca, come diceva appunto l'amministratore, la parte campo bassana ancora. Sì, noi la stiamo cercando, stiamo intavolando da un po' di tempo queste trattative, cercare le giuste persone che hanno voglia e innanzitutto sono appassionate del campo basso calcio, perché se non c'è passione è difficile che uno investa nel calcio, cioè per investire nel calcio uno deve essere appassionato, questo è il primo punto. Poi ripeto, mio padre in passato ha fatto amministrare il suo portafoglio ad amici e persone che non avevano una quota in società e quindi non vedo perché non si possa coinvolgere un imprenditore locale dando il giusto risalto alla giusta importanza in società. Con questo sodalizio con l'imprenditore pugliese finisce anche una sorta di isolamento finanziario nel quale era precipitato il campo basso, cioè era una società con pochi sponsor? Sì, le sponsorizzazioni a campo basso sono state sempre modeste, diciamo pochine rispetto alla piazza. Ringrazio tutti coloro che lo hanno fatto fino ad oggi e che lo faranno in futuro. Pugliese è un tassello che va a colmare un aspetto finanziario che deve essere coperto per una tranquillità della continuità del calcio campo bassano.